buongiorno a tutti dalla libreria il sasso nello stagno ricollegandomi a quanto successo nei giorni scorsi ovvero l'episodio di aggressione subito da una ragazzina qui a luceranti e quindi adesso io vi voglio leggere un pezzo tratto da questo testo che io reputo fondamentale nelle case nelle scuole nella nelle amministrazioni perché no è un testo fondamentale che bisognerebbe tenere sempre a portata di mano da qui io vi leggerò il termine partecipazione che secondo me spiega molto bene alcune dinamiche e alcune conseguenze di questo di questo modo di vivere di questi avvenimenti rincorrevamo il pallone lungo un rettangolo di terra battuta sotto il sole feroce di luglio la scuola era finita e noi volavamo da un lato all'altro del campetto leggeri come stracci era quello il nostro spazio di libertà due porte di legno prive di rete e tutto intorno l'erba alta a delimitarlo un piccolo recinto felice al riparo dal traffico delle automobili alle cinque del pomeriggio una fila di lampioni illuminava puntuale l'area di gioco consentendoci così di prolungare le nostre partite fino all'ora di cena quella mattina di luglio però arrivarono i grandi noi avevamo dieci anni loro più di tredici con parole taglienti e gesti sgarbati ci spinsero da parte ci rubarono il pallone e cominciarono a giocare tra loro non pretendemmo tante spiegazioni erano cose che succedevano ci accoccolammo ai margini del campo tra l'erba alta e la terra che scottava e restammo a guardare i grandi erano veloci e calciavano la palla con violenza sotto l'impatto dei loro piedi la sfera schizzava in avanti emettendo un secco spaff e noi istintivamente chiudevamo gli occhi come per paura di essere colpiti gridavano offese e minacce mentre si sottraevano la palla a vicenda spesso strattonandosi e poi cadendo a terra dal margine del campo stentavamo a capire come fossero composte le squadre quali tra loro fossero compagni quali avversari aspettavamo che si stancassero per tornare a giocare ma il tempo passava e non si fermavano mai allora di pranzo tornammo mogi a casa e il giorno dopo non andamo a giocare al campo e neppure quello dopo e neppure quello dopo ancora tornammo soltanto l'estate successiva in un tardo pomeriggio eravamo più alti di qualche centimetro e ci sentivamo più sicuri di noi pronti a difendere il nostro diritto al gioco del campo di calcio che ricordavamo però era rimasto ben poco le porte erano state divelte una montagna di copertoni troneggiava proprio lì dove una volta c'era stato il centrocampo rifiuti bottiglie lattine erano sparsi ovunque e intorno a queste immondizie si muovevano tipi loschi una mano esperta aveva frantumato probabilmente assassate tutte le luci dei lampioni in modo che con il calare della sera il campo venisse avvolto dall'oscurità avevamo abbandonato il campo e più prepotenti e loro ne avevano fatto scempio cosa avremmo dovuto fare cosa avrebbe potuto fare un piccolo gruppo di bambini di 10 anni me lo chiedo ancora questa storia mi torna in mente quando penso alla partecipazione uno spazio libero ha bisogno della partecipazione di tutte e di tutti a volte può essere faticoso o persino rischioso ma è necessario proteggere assieme con lo spazio altrimenti i furbi e i prepotenti possono approfittarne appropriarsene e distruggerlo forse a causa di questo episodio sono cresciuto senza riuscire ad amare il gioco del calcio niente contro gli appassionati di questo sport o contro il calcio in sé ma proprio non mi è mai riuscito di appassionarmi né alla pratica né alle partite viste in televisione allo stadio eppure con il tempo mi sono convinto che anche se non amiamo lo sport è necessario almeno difendere il campetto è indispensabile giocare la partita fino in fondo per vincere la prepotenza è indispensabile partecipare quello che parla è daniele ristarco l'autore di questo libro piccolo dizionario della politica piccolo non perché sia poco importante o poco poco grande ma perché vuole essere arricchito di nuovi termini proprio da noi che lo leggeremo che lo studieremo e di cui ne discuteremo se qualcuno vuole informazioni riguardo agli incontri che stiamo tenendo per parlare di quello che noi possiamo fare può contattare il la libreria il sasso nello stagno al numero 0 8 8 1 1 9 6 0 1 2 1 grazie buona giornata